Quando si è presentato, mi fa io sono Giovanni Alcano, ho vent'anni e vengo da Cardano al campo, va bene, si è presentato con questi occhi azzurri, fai vedere lo sguardo che hai fatto quando si è presentato da me? No, no, non è vero io, fai lo sguardo a me, con questa faccetta da un giometto, no? Poi a un certo punto prende la chitarra, si trasforma in un mostro. Giovanni, voglio che del meglio di te stesso, agli amanti del Boogie, gentilmente richiesto, questo è il Kita Boogie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!